salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video allora questo video nasce per spiegarvi ciò che è successo nel canale quest'ultimo periodo come ben sapete carica un film a settimana e fin qui tutto a posto fino a che è nato un po di problemi con la questione del copyright infatti ha avuto una prima segnalazione del copyright per quanto riguarda prometheus e giustizia privata prima segnalazione poi è arrivata la seconda che riguarda la sfida il problema è questo è che quando si hanno tre segnalazioni per copyright nell'arco di tre mesi c'è un'alta probabilità il canale possa essere chiuso quindi automaticamente sono stato costretto a non poterne caricare più avendo queste due segnalazioni per copyright sono stato costretto a rimuovere anche gli altri film caricati in precedenza come john wick riddick e gli altri e poi l'ultimo che ho dovuto rimuovere è stato il make up di joker nel quale ho messo una musica di mccl jackson ovviamente anche quella protettata copyright ma lo ricarierò con una musica free da qui in poi dovrà cercare tenere il canale più pulito possibile proprio per quanto riguarda la questione copyright onde evitare arrivi la terza segnalazione e quindi la chiusura tornerò attivo nel canale con tutti i video che ovviamente senza copyright per quanto riguarda video musica e quant'altro al prossimo video allora volevo aggiungere ancora un'ultima cosa importante nella peggiore delle ipotesi che il canale dovesse essere chiuso cosa che non spero già ho progettato il programma di avere un nuovo canale quindi magari vorreste farmi il favore di nel caso in cui dovesse accadere di andare a iscrivere a questo nuovo canale e il link è sotto in descrizione si deve ad iscrivere già adesso nel caso in cui però speriamo che tutto vada per il rimaniamo sempre su questo canale per adesso attivi in questo canale e sarà sempre così nella peggiore delle ipotesi ci sposteremo il nuovo canale quindi grazie al prossimo video iscriviti al canale